A differenza di altri settori, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le reti si basano su standard ormai superati creati più di 30 anni fa. Per far fronte alle continue innovazioni a livello di servizi, come ad esempio il traffico dati su cellulari, le reti peer-to-peer, l'IPTV e il traffico audio-video, è stato necessario introdurre via via nuovi protocolli che hanno reso la gestione delle reti sempre più complessa e di difficile analisi in caso di problematica agli apparati. Uno dei principali motivi di tale ossificazione è la scelta da parte dei produttori hardware di creare dei sistemi chiusi, ossia degli apparati forniti con software proprietario che non possono essere modificati se non da parte del produttore stesso. Inoltre, le interfacce per la gestione degli apparati stessi sono spesso customizzate, rendendo di fatto molto complicato gestire sistemi composti da apparati di produttori differenti. OpenFlow consente di superare questi limiti, in quanto ridefinisce dalle basi i concetti di rete e fornisce un sistema completamente aperto e configurabile, indipendente dal hardware utilizzato. OpenFlow è un open standard nell'ambito dei protocolli di rete. Ideato ed implementato dall'Università di Stanford nel 2008, si è velocemente imposto all'attenzione degli esperti di settore come possibile scenario delle reti di nuova generazione. Uno dei concetti principali di OpenFlow è la completa programmabilità della rete, ossia l'amministratore del sistema è in grado di scegliere quale traffico far transitare su quale link ed offrendo quindi una gestione capillare di tutta l'informazione che transita nella rete. Le reti IP attuali si basano su un approccio distribuito nel quale ogni apparato, basandosi sull'intelligenza in esso implementata e sui protocolli di rete, decide come trattare le informazioni che riceve. La conoscenza delle informazioni è quindi frammentata all'interno della rete, rendendone di fatto molto complicata la gestione. OpenFlow si basa su un approccio centralizzato nel quale una singola entità, chiamata controller, è depositaria delle informazioni di tutta la rete. Questo approccio rende concettualmente più semplice la gestione degli apparati, in quanto il controller ha una visione completa della rete e può prendere quindi delle decisioni ottimali, consentendo di implementare delle politiche particolari per ogni tipologia di traffico che entra nella rete. Un esempio particolare di traffico di rete che può aiutare a capire i benefici di OpenFlow è il traffico multicast. Il multicast è una tipologia di traffico specifica utilizzata per trasmissioni di tipo 1 a molti, come ad esempio streaming multimediali, nei quali i minuti di un solo server vengono distribuiti a migliaia di utenti. Quando un client vuole accedere ad una risorsa, come ad esempio un film, invia un pacchetto chiamato Join. I router che intercettano quel pacchetto aprono quindi un flusso verso il client che può accedere all'informazione. L'approccio distribuito delle reti classiche rende la gestione del multicast complicata e generalmente subottima. Inoltre, attualmente non è possibile modificare dinamicamente gli alberi di multicast, ossia l'insieme di risorse che, a partire dalla sorgente dell'informazione, detta radice, arrivano fino ai diversi client, detti foglie, e risulta complicato ottimizzare server multipli che generano la stessa informazione. A differenza del traffico unicast che avviene tra una sorgente ed una destinazione, il multicast consente di ottimizzare le risorse di rete, in quanto ogni dato transita una sola volta su ogni singolo link ed è automaticamente duplicato dai router presenti nel percorso soltanto quando è necessario. Osservando la figura si può notare che nel caso dell'unicast la stessa informazione viene spedita singolarmente ben tre volte, di fatto teppicando l'uso di banda nel link più in alto. La demo presentata è stata testata su una rete OpenFlow composta da 9 switch hardware collocati in un'infrastruttura di rete geograficamente distribuita nella città di Trento. Il testbed è composto da tre differenti locations interconnesse attraverso un anello di fibre dedicate a 10 gigabit per secondo. Gli switch sono gestiti da un controller OpenFlow che si occupa di gestire tutto il traffico di tipo multicast afferente alla rete. Abbiamo utilizzato 5 computer collegati gli switch come in figura per trasmettere e ricevere due differenti video. La dimostrazione delle funzionalità offerte avverrà mediante un'interfaccia web collegata al controller, configurata per mostrare il traffico multicast presente sulla rete. I pacchetti appartenenti al primo video saranno evidenziati in colore verde, mentre quelli del secondo in colore rosso. All'istante 0, il server 1 inizia a trasmettere un flusso multimediale utilizzando l'indirizzo multicast 224-111. Il controller riconosce il flusso e registra l'informazione, ma dato che nessun client ha ancora fatto alcuna richiesta, invia allo switch più vicino al server il comando di bloccare i dati. Dopo un certo lasso di tempo, un client invia sulla rete una richiesta di join al gruppo multicast. Il controller, dopo aver verificato le informazioni, calcola il percorso migliore tra client e server e configura gli switch 1, 2 e 3 per inoltrare i dati fino alla destinazione. Successivamente, un secondo client richiede accesso allo stesso contenuto. Analogamente, il controller ricerca il percorso migliore tra il client e lo switch più vicino sul quale è presente il contenuto. Di conseguenza, chiede allo switch 3 di duplicare i dati e agli altri di inoltrarli alla destinazione. Un ulteriore periodo di tempo, un secondo server inizia ad inviare sulla rete due flussi multimediali. Uno uguale al primo server, il secondo invece appartenente al gruppo multicast 224.1.1.2. Il controller, non avendo ulteriori client da servire, invia allo switch 8 il comando di bloccare il flusso di dati all'origine. In seguito, il primo server riscontra un problema e interrompe il flusso dati multimediale. Il controller rileva il fatto, verifica se nella rete sono presenti altri server con lo stesso contenuto multimediale e riconfigura gli switch per inoltrare nuovi flussi alle destinazioni. Il tutto in meno di un secondo, a differenza dei 5 più secondi necessari in una rete standard. Abbiamo volutamente usato due server non sincronizzati tra loro per mostrare l'istante in cui il flusso dati a destinazione passa dal primo al secondo server. Successivamente, un terzo client richiede accesso ad entrambi i contenuti multimediali e il controller, dopo aver verificato i nodi più vicini alla destinazione con quei flussi attivi, configura rispettivamente gli switch 2 e 3 per il primo flusso multimediale, mentre per il secondo crea delle regole su tutti gli switch dal server fino al client. Analogamente, anche gli altri due client richiedono accesso al secondo video. Di conseguenza, il controller calcola i nuovi percorsi, configura i due switch centrali per duplicare le informazioni e i due switch esterni per inoltrare la destinazione. Infine, il client 2 decide di spegnere la visualizzazione dei due filmati. Il controller intercetta le due richieste, verifica dove interrompere i flussi dei video e riconfigura lo switch 3 per inoltrare il contenuto solo al client 1. OpenFlow risulta molto efficiente nella gestione del traffico multicast. L'approccio centralizzato dei sistemi OpenFlow consente di creare alberi multicast ottimizzati, modificarli dinamicamente sia in base alle richieste dell'amministratore di rete, sia in caso di guasti nella rete. Inoltre, attraverso modifiche puntuali al controller, è possibile ottenere soluzioni ad hoc adatte alle diverse esigenze, come ad esempio la possibilità di modificare dinamicamente i percorsi dei flussi a seconda del carico della rete.